Ma, signore e signori di questa ipotetica giuria, c'è un'ultima cosa che vorrei voi consideraste. Io ho scritto le poesie di se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene e il mondo ne sarebbe assai più bello. Ok, allora. Wow, mitico!